Musica Sempre più vicino l'arrivo di Joao Mario all'Inter, l'offerta di 45 milioni più 5 di bonus allo Sporting Lisbona dovrebbe essere quella giusta per convincere i portoghesi. Musica Tra meno di 24 ore inizia la Premier League, una delle più attese degli ultimi anni e con tanti italiani in panchina, da Conte a Ranieri, da Mazzarri a Guidolin. Marcello Brozovic, nuova idea della Juventus che cerca di sistemare il centrocampo. L'Inter non ha intenzione di prolungare il contratto del calciatore ma i nerazzurri preferirebbero cederlo all'estero. Tanto spazio dedicato all'Inter in questa edizione del TMV News, buonasera a tutti, benvenuti, un saluto a Ivan Cardia anche, buonasera a te. Buonasera, buonasera. E buonasera a Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Inter dicevo in primo piano perché parleremo di Joao Mario che si avvicina ai nerazzurri, il talento portoghese che è stato a lungo inseguito dall'Inter anche di Mancini. Adesso sembra davvero ad un passo questo giocatore che permetterebbe di poter utilizzare varie soluzioni di gioco a De Boer. Che colpo sarebbe Raimondo De Magistris? Un innesso sicuramente importante perché nell'ultimo europeo è stato tra i migliori anche Portogallo, campione d'Europa, il numero 10 di quel Portogallo tra gli assoluti protagonisti. C'è da capire poi come schierare Joao Mario in quest'Inter nel 4-2-3-1 di Frank De Borro, nel 4-3-3 vedremo quale modulo adotterà il manager olandese. Sicuramente è un colpo costoso perché stiamo parlando di un investimento da 45 milioni di euro e lì magari si può fare qualche ragionamento. Insomma perché sono tanti i soldi quelli che verranno spesi dall'Inter per un giocatore importante, sì, forte, sì, non so quanto funzionale però a questa Inter. Però insomma un giocatore come sottolineavo in precedenza molto duttile, capace di ricoprire più ruoli, è partito giocando da regista, poi è stato spostato più in avanti, può giocare come esterno. Insomma ci sono tante soluzioni che può offrire a De Burr. Sì, sì, è certamente un calciatore polivalente, all'europeo l'abbiamo visto prevalentemente operare sulle fasce, però anche nello Sporting Lisbona nella scorsa stagione ha giocato da esterno destro tendenzialmente, però appunto nascendo come interno, come regista può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. E' molto interessante la lettura tattica che già ci anticipava Raimondo, perché non dimentichiamo che l'Inter ha appena preso anche Antonio Candreva, insomma non è recentissimo, però è un innesto di questo mercato estivo. Per certi versi è un giocatore, non voglio dire simile, che però comunque rischia di andare ad occupare una porzione di campo abbastanza analoga a quella di Gio Mario. Io credo che a questo punto il 4-3-3 possa essere in modulo base con Candreva e Perisic esterni d'attacco e Gio Mario a centrocampo, anche se a quel punto un centrocampo Gio Mario banega con Dogby rischia di essere un po' leggerino in fase di non possesso, per quanto Gio Mario comunque possegga, abbia delle ottime qualità anche dal punto di vista fisico, atletico, anche appunto senza palle è un ottimo innesto. La valutazione è altissima. Come è ogni calciatore portoghese che si rispetti. Sì, c'è anche a proposito dello schema tattico, se parlato del 4-3-3 potrebbe essere comunque un'ulteriore spinta a questo tipo di modulo, l'arrivo di Gio Mario, potrebbe anche magari giocare Gio Mario in coppia con Condobbià alle spalle di Candreva, Icardi e Perisic in una sorta di 4-3-2-1. Quello è un po' più difficile, secondo me, a quel punto magari Deborah decide di arretrare di qualche metro perché no, Banega, che è vero, nell'ultima stagione ha sempre ricoperto il ruolo di trequartista, però nasce proprio come un centrocampista che imposta l'azione davanti alla difesa. Gio Mario, giustamente, ha detto Ivan, l'abbiamo visto come alla destra nell'ultimo europeo, anche se con caratteristiche molto diverse rispetto a quella di Candreva perché è un giocatore che tende sempre ad accentrarsi, ad essere sempre nel vivo del gioco, può essere un trequartista anche nel 4-2-3-1, l'ha detto anche la maglia numero 10, indossata proprio in occasione dell'ultimo europeo. Sì, è un centrocampista polivalente, questo è poco ma sicuro, non credo possa essere lui il perno davanti alla difesa in un centrocampo a due, però è sicuramente un giocatore di qualità che nell'impostare la manovra è stato, si è rivelato, tra i migliori dell'ultimo europeo. A questo punto potrebbe essere soddisfatto anche Mancini con l'arrivo di Gio Mario, di questa Inter? Quello che mi stavo chiedendo, perché tutto sommato Mancini se n'è andato, ci sono stati screzzi interni all'Inter, la lontananza può essere stato uno degli elementi determinanti, però la proprietà di Suning si sta dimostrando con l'arrivo di Candreva e adesso con questo affare Gio Mario molto vicino alla chiusura, ben disponibile a dinnesti importanti, quindi magari Mancini poteva aspettare un pochino e vedere cosa gli avrebbe regalato il mercato. Penso che Mancini sarebbe stato soddisfatto di Gio Mario, tra l'altro ricordiamo già era un obiettivo quando c'era Mancini, si era parlato della possibilità che lo tesserasse il Yang Su Suning per poi girarlo in prestito all'Inter e sistemare un po' le cose dal punto di vista del fair play. Adesso, se arriverà a titolo definitivo all'Inter, il fair play andrà accontentato, magari con qualche movimento in uscita. Certo, e ne parleremo tra poco, non precorrere i tempi, non bruciare la scaletta come si suol dire. Non mi solmetterei mai. Siete incuriositi, lo chiedo ad entrambi dall'inizio della Premier, domani il via della Premier League. Sulla carta non si è mai vista una Premier così competitiva. Mourinho e Guardiola per il rilancio di Manchester, al City Guardiola, all'United Mourinho, c'è Antonio Conte, c'è ovviamente curiosità per vedere cosa farà Conte al Chelsea, c'è l'Arsenal, l'eterno incompiuto di questi anni, insomma c'è la squadra campione in carica, il Leicester di Ranieri, Ranieri ieri l'ha detta, è impossibile pensare a una doppietta del Leicester, insomma è una Premier League sulla carta di sicuro fascino. Però il punto della situazione sulla Premier League ce lo fa Marco Conterio che in materia è un conoscitore profondissimo. La segue attentamente. Attentamente, va beh, sentiamo che cosa ha da dirci dunque Marco Conterio dalla redazione sulla Premier League. Tutti a caccia del Leicester City di Claudio Ranieri, in quella che si prospetta di fatto essere Lorenzo, la Premier League più bella di ogni tempo, forse il campionato più bello di tutti i tempi, perché c'è José Murigno con il Manchester United, c'è Pep Guardiola con il Manchester City, Jurgen Klopp con il Liverpool, Arsene Wenger con l'Arsenal, Maurizio Pochettino con il Tottenham, Antonio Conte a portare avanti i colori dell'Italia sulla panchina del Chelsea, insomma davvero a livello di allenatori, senza dubbio, è il campionato più bello di ogni tempo, senza contare poi anche la rappresentanza italiana. Walter Mazzari sulla panchina del Watford, Francesco Guidolin su quella dello Swansea, starebbe arrivando anche Gianfranco Zola su quella dell'Al City. Al di là di questo, insomma, tanti colpi, Paul Pogba non ci sarà per la prima dello United, perché è stato squalificato con i gialli in Coppa Italia, ma ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Il match clou di questa giornata è quello tra Arsenal e Liverpool, che di fatto è il posticipo della prima di Premier League, ma l'attesa è veramente fremente, perché non è da escludere una sorpresa, magari il WSM di Bilic, magari l'Everton di Koeman, che lo so. Vedremo, noi ci mettiamo comodi, perché da qui fino a maggio, di fatto anche a Natale, come sempre in Inghilterra, si gioca anche nel Boxing Day, ci attendiamo la Premier League, più bella di sempre. A voi! E ci attendiamo anche la risposta di Ivan Cardia, perché prima non lo ha fatto, lo avevamo coinvolto sul giudizio sulla Premier, sulla curiosità che hai su questa Premier, non sono curioso quanto Marco Conterio, che appunto è un grandissimo estimatore della Premier League, sono curioso di vedere se rimarrà un campionato autarchico, perché negli ultimi anni la Premier League è diventata stellare al suo interno, al suo esterno molto meno, visto che a livello europeo i club inglesi non riescono ad ottenere grandissimi risultati, quindi c'è stata la Brexit, ora vediamo se intendono rimanere nei loro ricchissimi confini, perché è un campionato che ormai genererà più introiti della stessa Champions League, praticamente, vedremo anche questo, non dimentichiamoci che iniziano anche altri campionati. Certo, i tuoi orizzonti sono ampi e quindi guardi anche ad altri campionati. Va subito tutto il calcio, inizia la Ligana, inizia il campionato portoghese, finalmente si entra nel vivo del calcio giocato che poi quello che amiamo tutti, sopra ogni cosa. Prima parlavi delle uscite dell'Inter, l'Inter che è costretto adesso anche a guardare al mercato in uscita, e Brozovic potrebbe essere uno dei giocatori in partenza, è una delle idee della Juventus dell'ultima ora, Juventus che deve sistemare il centrocampo, l'Inter non ha assolutamente intenzione di prolungare il contratto con questo calciatore, tra l'altro Brozovic, mi rivolgo a Raimondo De Masjistris, non è mai stato quel giocatore in grado di assicurare grande continuità e anche nell'ambiente dei tifosi non ha mai suscitato quel grande entusiasmo, insomma anche ascoltando i pareri dei vari ex interisti non è quel giocatore che ha riscaldato il cuore. Sì, forse è un po' troppo discontinuo, come ogni giocatore croato che si rispetti, insomma anche all'Inter ha messo in mostra delle ottime qualità, anche tecniche, però insomma nell'arco di un campionato non ha mai fatto sentire la sua presenza con continuità, magari una buona partita, poi per due, tre gari si eclissava un po'. È chiaro che tra i giocatori sacrificabili ha comunque una valutazione importante, perché l'Inter lo valuta non meno di 20 milioni di euro, e ad oggi diciamo che c'è stato qualche sondaggio, ad esempio da parte della Juventus, che cerca un altro centrocampista, un giocatore che numericamente possa sostituire Paul Fogbao, ovviamente con caratteristiche diverse. L'Inter è intenzionata a cedere il giocatore un po' meno alla Juve, però è chiaro che il giocatore resta sul mercato, così come Murillo, così come Andanovic, sono giocatori che hanno delle valutazioni di mercato precise. Nel caso di Brozovic, tra i 20 e i 25 milioni di euro, il problema è che fino a questo momento da parte di Juventus e Arsenal ci sono stati solo sondaggi. A tuo parere Ivan Brozovic è un giocatore da Juventus, un giocatore che può stare nella rosa dei bianconeri, un giocatore che può assicurare una certa qualità alla Juventus? Sicuramente a livello ambientale ci potrebbe stare benissimo, perché si va infoltendo la colonia croata in quel divinovo, c'era già Mario Manzucic, è arrivato nel corso dell'estate Marco Piazza, quindi troverebbe dei suoi compagni di nazionale ad accoglierlo a braccia aperte. A livello tecnico, ho detto che ovviamente Brozovic, come giustamente anticipatore al mondo, può essere un sostituto soltanto numerico di Paul Pogba, perché tatticamente, tecnico, da qualsiasi punto di vista, siamo su due pianeti completamente diversi. Può essere un giocatore utile per integrare la rosa, è un calciatore con capacità offensive, con un buon lavoro anche abbastanza completo. Ecco, per certi versi ricorda un po' Gio Mario, tatticamente, nella sua polivalenza, non vale 45 milioni di euro e quindi non è. Gio Mario però è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, nell'Inter lo abbiamo visto agire in diversi settori di campo, penso che... Per me, Ivano, si rischia una nuova operazione Hernanes con Brozovic, un giocatore che non mi convince troppo in chiave Juve, che rischia di trovare soprattutto lo stesso spazio. Poi è quel tipo di giocatore che, come Hernanes, ha comunque bisogno di una certa continuità per trovare la giusta forma, per trovare anche la giusta continuità di gioco. E la Juventus ovviamente non potrà garantirgli tutto ciò, non ha potuto garantirglielo l'Inter nella scorsa stagione e figurarsi una Juve ancora più competitiva rispetto ai Nerazzurri e c'è il rischio di investire tanto, perché comunque non vale meno di 20 milioni di euro, per un giocatore che non è centrale nel progetto di Juventus. Certo, poi rappresenterebbe una seconda, se non una terza scelta. Sì, ma la Juventus è alla ricerca di quella, nel senso che comunque per il centrocampo metterà in cantiere due innesti sostanzialmente, di cui magari uno può essere un calciatore un po' più difensivo, uno un po' più offensivo, come appunto Mario Brozovic, dovrebbe partire per Eira, che è sulla lista dei partenti, anche se ogni giorno qualche graduatoria la va scalando, potrebbe partire insomma per Eira, sono tanti nomi che potrebbero lasciare la Juventus, a quel punto Mario appunto per avere un calciatore duttile, in grado di interpretare diversi ruoli, perché poi Allegri sta provando con una certa frequenza, anche il 4-3-1-2, in cui Brozovic non da titolare, stiamo sempre parlando comunque di una seconda scelta, potrebbe anche agire volendo da trequartista, insomma è un calciatore che offre diverse soluzioni, onestamente fossi in Allegri, preferirei puntare su Pereira, perché lo giudico un calciatore, a parte che ha già dimostrato qualcosa in maglia bianconera, rispetto a Brozovic, che invece avrebbe tutto da dimostrare, che non comporta un investimento, e anche con margini di crescita più ampi, però se la Juventus ritiene di cedere Pereira, Brozovic più un altro giocatore, può essere una soluzione giusta. C'è stata anche qualche alzata di testa nel suo periodo italiano, mi riferisco a Brozovic, dal punto di vista caratteriale, ci penserebbe comunque la Juventus poi a rimettere a posto la situazione? La Juventus da quel punto di vista è forse la migliore società italiana, perché riesce a gestire il comportamento dei propri tesserati, come quasi nessun'altra riesce, qualche alzata di testa, gli ha anche meritato gli onori dei social, perché poi è diventato, anche se non un calciatore fondamentale sul campo, un idolo dei tiposintelisti, c'è stato il periodo dell'Epic Brozo, praticamente tutti erano impazziti se ricordate, quindi comunque da quel punto di vista io quando si parla di Juventus penso che i tifosi possano stare tranquilli, la gestione del calciatore fuori dal campo è impeccabile da parte dei bianconeri. Per chiudere il discorso sulla Juventus, Raimondo De Magistris, Witzel lo ritiene un giocatore inarrivabile alla luce delle dichiarazioni del giocatore, alla luce di quello anche che ritiene lo Zenit, oppure le parole del giocatore di ieri sono comunque un tentativo di forzare la mano allo Zenit, non dimentichiamoci che poi lo Zenit rischia di perdere a 0 euro il calciatore prossimo anno. Più che forzare la mano, Witzel ha capito che lo Zenit non vuole scendere sotto una certa cifra, sotto i 25 milioni di euro, e tutti i club interessati sanno che spendere 25 milioni di euro per un buon giocatore, ma che ha un contratto in scadenza tra un anno è francamente troppo. Da qui la decisione di Witzel che ha incontrato in questi giorni anche i dirigenti dello Zenit, si è confrontato con loro, lo Zenit ha fatto capire che non sarebbe un grosso problema perderlo a 0 tra un anno, sappiamo che è un club abbastanza facoltoso, non ha certamente problemi economici, e chiaramente Witzel vuole assicurarsi un autocontratto la prossima estate, insomma sa che a parametro 0 può chiedere di più, anche dal punto di vista dell'ingaggio, quindi credo ci siano tutti i presupposti affinché questo affare per la Serie A vada sì in porto, ma la prossima estate. Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News, grazie a Raimondo Magistris, grazie a Ivan Cardia, un buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti.